L'Inc Democratico è contenta di aver organizzato oggi questo convegno sull'urbanistica, che è nell'intenzione della nostra associazione di organizzare vari incontri con le professioni, con le professionalità di questa città. Oggi abbiamo parlato con vari architetti di quello che può essere la visione urbanistica del futuro della nostra città, perché crediamo che queste scelte vadano ad influenzare la qualità della vita, lo stile di vita dei nostri cittadini.